Presidente, siamo arrivati al Santo Natale, che auguri vogliamo fare ai nostri concittadini? Un augurio di serenità e di tranquillità, quella che è mancata in questo 2020 per le misure da Covid-19 che ci hanno imposto di mutare il nostro modo di vivere, ma che sono delle misure importanti e che devono essere richiamate in questi giorni di festa. E' un augurio a ritrovare quella serenità, tranquillità e quegli affetti familiari che purtroppo per il lavoro, per mille motivi, vengono talvolta messi in secondo piano. Ma nell'augurio io richiamo anche al senso di responsabilità di tutti i cittadini perché in queste festività possiamo limitare gli spostamenti, limitare gli incontri e rispettare le misure vigenti. E' molto importante per evitare i contagi. Lei ha ragione, abbiamo bisogno di essere cittadini responsabili perché in ogni caso è un Natale diverso. Molti lo hanno definito il Natale Covid. Natale da Covid-19, molti saranno con il cellulare, il computer in videochiamata con i propri cari che non sono potuti giungere nelle nostre comunità a trascorrere queste sante festività insieme a coloro i quali gli hanno dato i Natali. E questo è un motivo che ci richiama ancora di più ad essere responsabili pensando a quanti non sono potuti venire, a quanti sono rimasti lontani e soprattutto se domani vogliamo tornare a vivere la vita di sempre dobbiamo oggi comportarci bene. Quindi un augurio di speranza. Un augurio di speranza per vivere un 2021 all'insegna di quei colori che l'arcobaleno ci ricorda, che sta a ciascuno di noi prendere in mano la matita per scrivere una nuova pagina di speranza ma anche migliore per il 2021.